In accordo con il Comitato regionale di coordinamento delle università campane con la Regione in area arancione, le attività didattiche del secondo semestre per i primi anni di corso e non ancora concluse potranno ripartire in presenza. Sarà comunque garantita la possibilità di fruizione anche da remoto secondo i piani di organizzazione delle attività didattiche già adottati da ciascuna struttura didattica. Possono svolgersi in presenza anche le lezioni nei seminari dei corsi di dottorato di ricerca garantendo la possibilità di fruizione delle attività anche a distanza. Le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio, incluse quelle svolte in campo anche all'esterno delle sedi dell'Ateneo, si potranno svolgere in presenza. Stessa cosa anche per le attività laboratoriali e di tirocinio finalizzate alla produzione delle tesi di laurea o dottorato. Continuano a svolgersi in presenza anche le attività formative dei medici in formazione specialistica e quelle di tirocinio dei corsi di studio dell'area medica, sanitaria o dontoiatrica e farmaceutica. Possono svolgersi in presenza le prove pratiche degli esami finali abilitanti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. I tirocini di studenti e laureati esterni all'Ateneo potranno svolgersi in presenza a condizione che gli enti ospitanti il tirocinante o il laureato abbiano adottato idonei protocolli di prevenzione e protezione. Possono svolgersi sempre in presenza le sedute di laurea dei corsi di laurea magistrale garantendo comunque la modalità distanza per gli studenti impossibilitati a sostenerli in presenza. Tutte le attività dovranno comunque svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Ateneo e contenute nei protocolli di sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19.